Buongiorno allievo, innanzitutto ringrazio per essere stati con noi, spero di rivedervi anche l'anno prossimo e auguro a tutti una buona estate e basta, e basta, ora l'ultimo allievo che è un animale rovetta, venga, ci tengo a sottolineare che questo è un animale da palco, non studia, non dorme, non legge la musica, però suona, giorno Alessandro, cosa ci sono, in una strisca per la D'Ambore e ringrazio il maestro che ho messo di nuovo un ultimo. Grazie. 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 Grazie.